Non è che sto scherzando, è già da tempo che dico voglio lasciare l'Arezzo, io se arrivo domani mattina qualcuno che vuole l'Arezzo, io non è che glielo faccio pagare, io non glielo faccio pagare, qualcuno che gestisce l'Arezzo è una persona per bene, che si accolla l'onere di portarlo avanti, non ci sono problemi, io lascio l'Arezzo immediatamente, perché tanto il calcio porta soltanto sfiga, non è che porta positività, forse se io non ero il presidente dell'Arezzo calcio queste cose non mi erano successe, sono sicurissimo, questo è un mio pensiero.